Il presidente della regione toscana Enrico Rossi e l'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi hanno inaugurato i nuovi locali ampliati del pronto soccorso dell'ospedale di Nottola, in provincia di Siena. Prima di entrare, la delegazione regionale si è sottoposta ai controlli sanitari attivati anche qui per prevenire il contagio del coronavirus. La prima fase dell'ampliamento ha riguardato il locale dedicato alla gestione dei 5 posti letto per i pazienti in codice 2 dei 4 posti letto della zona dedicata all'osservazione breve e intensiva e del codice rosa per accogliere le persone facili che possono essere state vittime di violenza. Intervento complessivo di oltre 2 milioni e 300 mila euro. Un lavoro che è stato iniziato tanti anni fa, questo ospedale fu inaugurato addirittura da me nel 2001, giovane assessore. Adesso ci torniamo per l'ampliamento del pronto soccorso. Allora si pensava che il pronto soccorso non fosse così importante come invece piano piano, grazie alle tecnologie, grazie alla capacità di fare una diagnosi certificata e rapida, piano piano è diventato. Nella seconda fase dell'ampliamento saranno ristrutturate le zone dell'attuale triage e la camera calda. Lavori che vanno avanti, ha detto l'assessore Saccardi, anche in tempi in cui l'emergenza coronavirus tiene banco. I lavori sono stati fatti in più step perché il pronto soccorso continua a lavorare e deve continuare a lavorare anche nell'emergenza del coronavirus, nel modo migliore, come abbiamo visto che qui si sta facendo. Quindi insomma serve un po' più di tempo ma stiamo andando avanti in modo deciso per compiere e realizzare gli impegni che ci siamo presi. Grazie. 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 Grazie.